Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoni, lei ha protestato con una certa vehemenza per i servizi che potrebbero essere tagliati e che comunque già provocano una serie di servizi. Esatto, io sto protestando insieme al sindaco di Carunghio che diciamo ha preso l'iniziativa e ha coordinato il tutto e insieme a tutti gli altri sindaci del vastese interno che in maniera compatta tutti e venti hanno sottoscritto un documento dove si chiede alla Regione Abruzzo la revoca di una delibera assunta il 12 agosto di quest'anno con cui ha autorizzato questo programma di riorganizzazione da parte della società Cerella. La contestazione è di due tipi, una di natura amministrativa perché questa delibera è stata assunta contravvenendo la legge regionale del 1998 che richiede nel caso di riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale la consultazione dei sindaci. Sindaci che non sono stati assolutamente sentiti e consultati su una riorganizzazione che incide sulla carne viva dei cittadini del vastese e in particolare sugli studenti e sugli operai che sono i soggetti a cui questa legge regionale dedica maggiore attenzione. In secondo luogo perché questa riorganizzazione di fatto non funziona. Noi abbiamo adesso in fase di sperimentazione con una situazione climatica anche abbastanza favorevole il risultato finale che un ragazzo di Carunchio per raggiungere gli istituti delle scuole superiori di Vasto impiega circa un'ora e mezza. Provi a immaginare cosa succederà nel momento in cui avremo neve, gelo, nebbia, pioggia che nei nostri comuni sono consuetudine, sono la normalità nel periodo invernale. Quindi si è voluto razionalizzare diciamo il bilancio della società Cerella facendo pagare in primo luogo alle persone più deboli del nostro territorio, cioè a dei ragazzi minorenni che il più delle volte hanno 14 anni e che ogni giorno per raggiungere la scuola devono stare più di tre ore su un pullman che percorre le strade provinciali così come sono ridotte adesso. Quindi si è andato a incidere in maniera pesante su quelli che sono i servizi minimi che un servizio di trasporto pubblico locale deve garantire alla sua utenza. Per questo noi siamo contrari, abbiamo raccolto le firme di tutti i sindaci del territorio, abbiamo ricevuto la protesta dei genitori che anche loro hanno sottoscritto un documento che faranno avere alla presidenza dell'aggiunta regionale e all'assessore delegato chiedendo la immediata sospensione di questa delibera o perlomeno una sospensione parziale relativa all'accorpamento della corsa studenti Palmoli e Carunchio perché se non funziona e non ha funzionato adesso con il tempo clemente immaginiamoci cosa succederà nel periodo invernale.